Cerchi un biglietto aereo? Scegli la libertà di viaggiare come vuoi tu. Prendi il volo offre un servizio speciale per Dakar. Voli Neus, con partenze da Malpensa, Bergamo, Roma e Verona. Puoi scegliere le date che preferisci, decidere il numero dei bagagli e puoi pagare anche a rate. Inoltre possiamo offrirti anche altre compagnie aeree come Air Senegal, TAP Air Portugal, Royal Air Maroc e tante altre. Per info e preventivi chiama il numero 329 98 55 000 anche via WhatsApp. Con Prendi il volo puoi acquistare il tuo biglietto aereo in modo facile e veloce per un viaggio sicuro e conveniente. Prendi il volo, scegli la libertà di viaggiare come vuoi tu. Ma qu'è te sois butona. Prendi ma quera pausa che. Ma lo praticamente galloca la mattina l'excellente. Si tu avais ilegitato come vuoi, ilegitato per talista oicurgia in Italia. Si tu avais ilegitato come vuoi, ilegitato peruiten si il vanno il tente tutto. Se ti nois ilegitato, ilegitato per partano cambiare, ma di scaldi. Il vengo tra��는 e prende ilegbe aareo in casa. N'aienso il vengo da invito a guardare ilegitato per ilegitato per ilegitato per di farina. Non, 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 non. grazie maxi astucie astu salonti la pona pannec le trauma adresi parce que di guernini e figi a dire no reni un fils de la fiducia bergamo a libero bergamo per me lo soccolo la mia famiglia la mia famiglia che abbiamo chiede via quarenghi numero 50 numero 55 55 55 56 ma mia la mia la mia la mia a a a a a a a a a Il nostro canale è il nostro canale e il nostro canale. Grazie per l'Italia. 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 Grazie per l'Italia.